Battipaia va verso il rimpasto in giunta? Parrebbe proprio di sì. Il problema per la sindaca cicilia-francese è l'assessore Gidio Mirra, espressione del gruppo Battipaia 2021, che ha rimesso nelle sue mani le numerose deleghe come turismo e commercio, in attesa di capire la situazione e rassegnare le dimissioni. Questo stallo ha fatto drizzare le antenne ad altri gruppi consigliari, che adesso potrebbero anelare a quel posto che potrebbe essere la lasciato libero. Se le dimissioni di Mirra non devessero arrivare, però, sul tavolo delle trattative potrebbe essere posto anche una delega molto importante, e cioè l'assessorato all'urbanistica. Un ufficio, questo, di peso, dato che Battipaia si è appresta ad approvare il nuovo piano urbanistico comunale, dopo una lunga gestazione tra ritiri, annullamenti, scontri in consiglio e carte bollate. A letto di ciò e la voce nelle piazze battipaiesi, vero polso della situazione si fa sempre più insistente, sembrerebbe che ci siano stati contatti anche con le opposizioni da parte di Palazzo di Città. Già con Nicola Vitolo, consigliere delegato al PUC e vicino al Partito Democratico da cui si è dimesso dopo la nomina, c'era stato un primo avvicinamento, ma adesso sembra che lo strappo sia non ricucibile. Il dialogo con chi sta all'opposizione, però, potrebbe continuare ad esserci in un'ottica di un allargamento della maggioranza, che sembra scricchiolare pericolosamente. In ogni caso il rimpasto ci sarà e potrebbe limitarsi soltanto ad un passaggio di delega tra assessori. Riconfermati senza appello sono Silvana Rocco alla Cultura e Vincenzo Chiera all'Ambiente. Per gli altri potrebbero esserci nuove nomenclature.